Cari amici ben ritrovati, guardiamo insieme la situazione meteo della nostra zona. La perturbazione che ha interessato anche la nostra provincia si sta lentamente spostando verso sud-est. Avremo pertanto un miglioramento del tempo ma solo su alcune zone della Sicilia. Sulle nostre zone infatti il tempo rimarrà ancora particolarmente nuvoloso con piogge deboli e schierite previste per il pomeriggio e la sera. Le temperature si manterranno nella media stagionale con massime di 14 e minime di 10 gradi nella notte. I venti di moderata intensità aspireranno da nord-nord-est per poi ruotare ispirando da nord nel pomeriggio e da nord-nord-ovest in serata. I mari risulteranno mosso il tirreno agitato lo ionio con altezza d'onda di 350 centimetri. Nella giornata di lunedì 12 marzo l'alta pressione delle azzorre proveniente da ovest sta determinando un graduale miglioramento delle condizioni climatiche. La nostra provincia per la giornata odierna sarà ancora caratterizzata da nubi sparse con miglioramento del tempo nella serata che potrà far sperare in un martedì quasi sereno. Le temperature oscilleranno tra 10 e 13 gradi. I venti ispireranno da nord-nord-ovest con intensità di 39 km orari con possibili raffiche fino a 54 km orari. I mari risulteranno molto mosso il tirreno mosso lo ionio. Grazie per averci seguito. Appuntamento a domani.